Ciao ragazzi qua i Vipo, oggi siamo qua tornati con un nuovissimo video Tornati in realtà ci troviamo qua per la prima volta su Tour de France 2020 Che non sia in live, siamo in un video come avrete già potuto vedere Tour de France 2020 quindi quest'anno ragazzi con Vincenzo Nibali In realtà come l'anno scorso perché Aru è molto scarso sul gioco Che farà da capitano con la nuova squadra, Trex e Gaffredo Andiamo subito a alterare la squadra per renderla la più adatta a Vincenzo Anche se è già buona così in realtà Quindi Vincenzo come capitano, Mollema come Gregario di lusso come secondo capitano Stuyven per le volate direi che non potremmo prendere di meglio Perché c'è Matteo Moschetti che però è un 74 quindi direi di no Ciccone per la maglia bianca per me va benissimo Dovrebbe avere, sapete che forse Ciccone per la maglia bianca è troppo un anno in più Quindi niente, non penso che ci sia qualcuno che può competere nella nostra squadra per la maglia bianca Quindi lascerei così Comunque Ciccone allora per la maglia Pua Ricciport come altro gregario di lusso Mats Pedersen per le crono squadre o anche come gregario Tom Squins per le fughe E Ryan Mullen come Mats Pedersen non penso andremo a cambiare Potremmo mettere Brambilla però secondo me Ryan Mullen è un ciclista molto valido Quindi ragazzi continua Non abbiamo cambiato nulla perché era già forte così la squadra Prima tappa di questo Tour de France 2020 da Nice dal Moyen-Pay Fino a... non lo so ragazzi proprio la prima volta che faccio il Tour Da Nice a Nice è vero un circuito la prima tappa Già comunque è abbastanza mossa Come vedete tre gampe di una montagna in 164 km Di... tutti e tre di terza categoria perché credo sia lo stesso Sì, ripetuto Con un formato atipico costituito da tre lunghi giri nell'internat nizzardo Questa grande par 2020 dovrebbe culminare Un battaglia tra velocisti sulla promenade... promenade del sangue Non so come si pronunci Quindi prima tappa andiamo subito in game Noi ci rivediamo allo sprint intermedio con Jasper Steuven Stavo per dire con Sonic or Belly però ovviamente non ci troviamo più con la Bahrain Merida O meglio Bahrain McLaren e non ci troviamo più nel 2019 Per quelli che avranno già visto live vedranno... non ci saranno sorprese Per quelli che la live non l'hanno vista vedrete alcune nuove feature del gioco come la prima persona Che secondo me sono molto molto carine Noi ci vediamo in game Sì, tre chilometri e mezzo allo sprint intermedio stiamo controllando Jasper Steuven Dovremmo essere coperti da Mats Pedersen che però non lo vedo qua davanti Eccolo qui, Mats Pedersen che ci tirerà la volata al traguardo volante Sul promenade anglais che alla fine è l'arrivo Quindi potremmo avere un assaggio del rettilineo finale Che è comunque molto largo e molto molto dritto Vedete, si vede l'arrivo già da qua ragazzi Quindi davvero, davvero molto lunga come volata Quindi Pedersen ci porta davanti Sono proprio in prima fila Vediamo anche Uri Sagan che sta tirando per Pascal Ackerman Ecco che parte a cannone Pascal Ackerman Parte anche Jasper Steuven con Greenewegen che sembra molto lanciato anche il nostro Matteo Trentin Jasper Steuven esce alla distanza Attenzione, attenzione Jasper Steuven Davvero un cannone Jasper Steuven Buonissimo questo guardo volante che conclude in terza piazza nel gruppo Prende la bellezza di 7 punti battuto da Trentin e da Dylan Greenewegen Trentin sembra essere in gran forma il campione europeo della CCC Noi ragazzi non direi di non tagliare più Quindi andiamo avanti perché ho avuto modo di vedere questa salita Che è una salita sulla carta di 6 km al 5% In realtà ragazzi la salita continua anche dopo Quindi potrebbero esserci sorprese Siamo ancora lontani dal traguardo Io metterò a lavorare Giulio Mettiamo a 90 anche Tom Skunis Anche Mats Pedersen Per vedere di scramare un po' il gruppo dai velocisti puri Vediamo se ci riusciamo Mettiamo tutti a 90 Anche se detta così Vabbè Vediamo se il ritmo si alza Per ora non sembra perché la fuga ha ancora 3 minuti comunque Ecco qua abbiamo scollinato ma la salita continua ragazzi E poi non c'è una vera e propria discesa Ma come vedete la salita continua anche dopo Ecco che adesso si avverte il cambio di ritmo 1.24 il vantaggio di Matthias Brandl Julian Simon, Kevin Reza, Nathan Nass e Arthur Vichaud Sono andati in fuga proprio all'inizio Ecco un altro strappo ragazzi Ancora 43 km Non penso però Riusciremo a staccare qualcuno Perché come potete vedere Gli energie ci sono ancora Quindi niente attacco in discesa Per Vincenzo o per qualcun altro Penso Abbiamo anche la maglia Di campione italiano di Davide Formula Nelle prime posizioni Vediamo il gel anche a Matt Spaders E neanche a Giulio Ciccone Anche se adesso c'è la discesa Quindi io aspetterei E ci mettiamo Ricciport Per sicurezza A proteggere Vincenzo Nibali Jasper Steuben sta davvero molto bene Come vedete vedere Ha un plus Di forma Steuben invece 26esima posizione Attenzione c'è stata una caduta Proprio davanti a Jasper Steuben Che rimane in piedi Non so come Però rimaniamo qua bloccati ragazzi Attenzione Attenzione ragazzi Attenzione Davanti rimane Ciccone Non C'è qua Valverde Anche con Con Jasper Steuben C'è caduto proprio davanti Gheoghegan Hart Attenzione Il team Ineos Ciccone davanti Quando mancano 25 km In un gruppo Con Sku In Slanda Fulsang Vincenzo Nibali Fabio Arut Dei Pogacar Primo Zroglic Dina Greonewegen Attenzione Colpo di scena Subito Prima tappa Così in discesa Caduta di Gheoghegan Hart Che spezza in due gruppi C'è dietro anche Nairo Quintana Con la nuova squadra L'Archea Samsic 1 minuto e 29 Il gruppo di 9 Mi dato da Ciccone Adesso noi siamo in un gruppo Penso Questo qua con Quintana Di 9 Con De Buist Fase molto confusa Dietro sono rimasti Tra gli altri Molema Port Pedersen Mullen Ryan Mullen In questo gruppo di De Buist Hagen Maes Villens Gilbert Decken Kolb Lucenko Kale V1 Dietro il gruppo Di 117 Attenzione che a questo punto potrebbe andare via Potremmo andare via con provare a fare qualcosa Sfruttare questa situazione Mettendo davanti Ciccone Ciccone Insatirare Vediamo se Nibali riesce a prendere qualche Qualche metro Anche Remco e Venepool In questo In questo primo gruppo E Venepoet Perché non Madonna Mi sono scordato di cambiare i nomi Alla Alla De Koenig Ecco mi sembrava di non aver cambiato i nomi a qualcuno Infatti Non avevo cambiato i nomi Alla De Koenig Mi dispiace Però Io li pronuncerò comunque giusti È una piccolezza Però io ci tenevo Mi sono dimenticato Vabbè Comunque 1 minuto e 15 Ciccone E E Skuins Stanno facendo davvero un grande ritmo Anche Jakob Fulsang in questo gruppo Che è il passistone Stefan Kjung Della De Ge Comunque Nathanas e gli altri Hanno ancora 1 minuto e 10 Su questo gruppo Quindi la fuga non è Ancora stata ripresa Colpo di scena Quindi subito la prima tappa Ciccone Ancora il gel Non mi ero ricordato di dargli Lo diamo subito Sperando che non si stacchi Diamolo anche No Scusi Non serve Direi Mettiamo Ciccone A Perseverare senza limiti Gruppo dietro Staccato di circa 25 secondi 1 minuto ancora là Vantaggio della fuga Skipiamo un po' Vediamo se riusciamo A mantenere questo Questo vantaggio 54 E no Subiamo il rientro Del gruppo Anche se la fuga Là davanti Ragazzi Ancora Non indugia Non si ferma ragazzi Attenzione Potrebbe essere un problema Potrebbe essere un problema Questo Switchiamo a Jasper Steuben Che è molto indietro Quando mancano 11 km La conclusione Anche se la strada È Bastante Ecco Questa prima persona Ve la faccio vedere Se non l'avete vista in live Questa prima persona In mezzo al gruppo Con Jasper Steuben Guadagniamo un po' Di posizioni 56 secondi A 10 km La vedo dura Per il gruppo Complice anche La caduta Che ha rallentato Le operazioni Ragazzi Probabilmente Saremmo anche Rientrati Eccoci qua Nelle prime posizioni Siamo dietro Al treno Della Della lotto Sudal C'è Giber C'è Villens C'è anche Diego Lissi Per la Hawaii Vorrei stare un attimo Più coperto Perché hanno Hanno migliorato La cosa del vento Devo ancora ben capire Come Sono saluta Di Tom Scuin 53 secondi Il vantaggio Della fuga 52 Il loro vantaggio Si sta Via via Abbassando 51 in questo momento 50 Sta davvero Scendendo molto Velocemente Rimangono in tre Lada avanti Perché si stacca Mattias Brandol Quando Brandol Quando mancano 7 km 49 50 secondi Continua a guadagnare Adesso però La fuga Non so dove trovino Tutta questa energia Visto che comunque È stata una tappa Abbastanza tirata Non hanno mai lasciato Più di 3 minuti In realtà La fuga Che però Sembra poter Arrivare al traguardo Anche Tom Dumoulin Nelle primissime posizioni Per evitare cadute Io per A scanso di qui Dico Segui attacchi A Vincenzo Così che Magari non rimanga Dietro Vittima di Buki Adesso mi metto Un po' più indietro Ragazzi Perché voglio Voglio rimanere Più al coperto Possibile Vediamo se Pedersen Può venire a coprirci Proteggi E Jasper Stuyven Vediamo se viene qua davanti Hans Pedersen 43 secondi Adesso Anche Jasper Philipsen Anche John Degenkolb Anche Viviani Ah non hanno i nomi Neanche della Cofidis Ragazzi Si chiama Vivanti Viviani Bene Benissimo ragazzi Vi sono dimenticato Anche la Cofidis Comunque Credo sia Ilia Viviani Non Attilio Che anche il fratello Corre per la stessa squadra Mettiamo un'altra Tra visuale Vediamo Non c'è ancora Hans Pedersen In prima posizione Con la maglia Di campione del mondo 34 secondi Per la fuga A 2 chilometri e mezzo Attenzione Bellissimo Questa sfida Tra il gruppo E la fuga Prendiamo un po' di gel 2 chilometri 30 secondi Vediamo adesso Partirà probabilmente La volata Siamo qua in primissima fila C'è anche C'è anche Gaviria C'è anche Matteo Trentin Attenzione 1 chilometro 400 metri 23 secondi Per la fuga Partita la fuga Partita la volata Con Tom Dumoulin Che va a lanciare la volata Penso a Dylan Greenwegen Ma davanti Nathanas va a vincere Non riesce Il gruppo rientra E Pascal Ackerman Colbrelli Ackerman Colbrelli E vediamo Dovremmo essere arrivati Terzi o quarti Per il gruppo Sono stati body bloccati Da un fuggitivo Che sarà piantato Sul traguardo Però Dovremmo aver fatto Un'ottima volata Dovremmo aspettare Maresco Che si è staccato Purtroppo Non ha potuto Particare alla fuga L'italiano Qua andiamo a rivedere L'ultimo chilometro Con Jasper Stuyven In primissima fila C'è anche Tom Skuins Che adesso esaurisce L'energia E parte a cannone Jasper Stuyven Davvero Un primo momento Sembrava avere davvero Una marcia in più Quest'oggi Jasper Stuyven Superato in questo frangente Da Pascal Ackerman Quando di metri Ne mancano 400 Dietro anche Sonny Colbrelli Là davanti Va a vincere Penso Nathanas Pascal Ackerman Che Ci supera quindi Ci supera anche Lì a Viviani Anche Sonny Colbrelli Anche penso Gaviria Anche se in realtà Adesso Si pianta abbastanza Gaviria E sulla destra Arriva anche Matteo Trentin Colbrelli anche Sembra un po' Essersi piantato Qua negli ultimi metri 90 metri al traguardo Ecco che Un Israel Credo Brandol Ci fa body block Troppo probabilmente Abbiamo perso Qualche posizioni Per via di questa Questa cosa Colpo di Reni Che va a favorire Matteo Trentin Che quindi vince Su Vince in realtà Vince la volata Di gruppo Su Pascal Ackerman Su Anche su Lieviviani Penso Kale B1 Su Proprio il nostro Jasper Jasper Stuyven Quindi Non dovremmo Essere arrivati Quinti o Quarti Nella volata Di gruppo Che come Prima tappa Direi che Va benissimo Considerando Anche il fatto Che Stuyven Non è un Velocista puro L'Italia di tappa Quindi Vediamo se Nathanas Non mi ricordo Se è Nathanas Che prende anche La maglia gialla Di conseguenza Arriva la fuga Subito alla prima tappa Di pochissimi secondi Maglia verde Anche per Nathanas Maglia pua Per Chiavin Reza E Maglia bianca Già per Egan Bernal Della Ineos Maglia bianca Subito per Egan Bernal Quindi Primo Nathanas Secondo Arthur Vichaud A 0 secondi 14 Julian Simon Che quindi Arrivano con lo stesso Tempo di Matteo Trentin Pascal Ackerman Elia Viviani John Degen Kolb Quindi non si trattava Di Kale B1 Jasper Stuvian Ottavo Quindi arriva Come pensavo Quinto Della volata di gruppo Poi Demar Atias Brandl Per la Israel Che era uno Dei fuggitivi Sonic Orbrelli Gaviria Greenwegen Christoph Kale B1 Simon Yates Sedicesimo Nibali arriva Allo stesso tempo 53esima Piazza Quindi ragazzi Per questa prima tappa Del Tour 2020 È davvero tutto Mi scuso ancora Per essere dimenticato Di cambiare i nomi Alla De Koenig E alla Cofidis Pensavo di averlo fatto Ma si vede di no Quindi ragazzi Grazie ancora E ci vediamo alla prossima Da Vape è tutto Bello